Dopo l'incontro con le associazioni culturali umbre di ieri, oggi è stata la volta degli imprenditori umbri. Con loro si è confrontata la presidente della regione Catiuscia Marini in vista della presentazione delle linee guida della nuova giunta regionale il prossimo 28 luglio. Ed anche questa volta la strategia da contrapporre alla crisi è quella di riuscire a sfruttare a pieno le risorse comunitarie. Una pioggia di milioni di euro in arrivo il prossimo quinquennio che insieme all'internazionalizzazione e all'alta formazione saprà rendere competitive le aziende umbre. Marini ha sottolineato la necessità da parte degli imprenditori di mettere in campo un protagonismo nuovo e più incisivo e in sinergia con le istituzioni. Presenti all'incontro nella sala della giunta tutte le associazioni di industriali, artigiani, commercianti e di servizi. Insieme alle due camere di commercio umbre di Perugia e Terni e a Sviluppo Umbria, Gepafin e Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria.